Salve a tutti amici di Campania nel pallone, eccoci ritrovati per il consueto appuntamento con il punto del giorno dopo. Napoli che ieri ha pareggiato 1-1 contro l'Union Berlino che proprio al Maradona è riuscito ad interrompere la sua lunghissima serie di sconfitte consecutive che era arrivata addirittura a quota 12. Adesso la qualificazione agli ottavi di finale per il Napoli resta alla portata però non è più così al sicuro considerato che con ogni probabilità si arriverà alla sfida da dentro fuori contro il Braga l'ultima giornata. È vero che ci saranno due risultati su tre a disposizione però se si tiene conto di quello che è stato sinora il rendimento casalingo c'è tutt'altro che da essere tranquilli. Infatti il rendimento a fuorigrotta ci racconta di un Napoli che in sette gare ha ottenuto appena due vittorie contro Sassuolo ed Udinese e poi sono arrivati due pareggi e ben tre sconfitte che per una squadra campione d'Italia all'inizio di novembre sono davvero un'enormità. Migliore il rendimento in trasferta dove però sono stati affrontati avversari decisamente più abbordabili. Infatti in campionato delle sei gare giocate fuori casa cinque sono state disputate contro squadre che in classifica si trovano al di sotto della decima posizione così come emblematico è il dato dei soli due punti guadagnati nelle uniche quattro partite disputate contro squadre che occupano la parte destra della classifica e viene davvero una nostalgia pazzesca pensando al fatto che un anno fa di questi tempi parlavamo di un Napoli che dopo la vittoria per due a zero contro l'Empoli era arrivato a ben dieci vittorie consecutive in campionato inoltre tenendo conto anche della Champions League quella lì era stata la la quattordicesima vittoria nelle ultime quindici gare poi nel sabato successivo sabato 11 novembre 12 novembre scusate sarebbe arrivata anche l'undicesima vittoria consecutiva in campionato contro l'Udinese che ricordiamolo fu l'ultima partita prima prima della pausa mondiale e parafrasando il famoso detto napoletano verrebbe da dire tempi belli ai quali bisognava dare continuità come abbiamo detto più volte però purtroppo ciò non è stato fatto ed oggi ci ritroviamo a descrivere una realtà totalmente opposta nonostante la squadra sia rimasta pressoché la stessa ad esclusione di Kim Min Jae e la partita di ieri per l'ennesima volta ci lascia la consapevolezza di una totale mancanza di organizzazione di gioco di una fase difensiva praticamente inesistente di una squadra che a tratti in campo non sa cosa fare è ovvio che non sempre le giocate dei singoli possono salvarti da una totale disorganizzazione tattica e mancanza di idee e personalmente sono dell'avviso che qualsiasi sia il risultato finale della partita di domenica contro l'Empoli dell'Aurentis lunedì 13 novembre dovrà procedere all'esonero di Rudy Garcia questa è l'unica strada per evitare un tracollo quasi certo dopo la sosta quando il Napoli si troverà ad affrontare un tour de force di fuoco considerato che le avversarie nelle prime quattro partite dopo la prossima sosta saranno Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus se queste quattro partite si disputeranno nel giro di appena 14 giorni e con queste premesse davvero si teme il peggio in vista di quelle quattro partite e non si esagera assolutamente se si dice che si potranno rischiare sul serio quattro sconfitte consecutive per questo bisogna correre ai ripari adesso che la stagione è ancora ampiamente raddrizzabile e il gol subito dell'uno a uno da parte dell'Union Berlino è l'emblema di quella che è la confusione che regna sovrana attualmente in questa squadra una confusione che figlia ovviamente di una gestione tecnica non all'altezza della quale siamo consapevoli già da diversi mesi e adesso vedremo cosa accadrà domenica ma ripeto il risultato finale almeno per quello che è il mio pensiero non dovrà condizionare la scelta di De Laurentiis se si vuole realmente cercare di salvare questa stagione in un momento nel quale è ancora salvabile. L'inadeguatezza di Garcia non emerge soltanto da ciò che vediamo in campo ma anche dalla comunicazione una comunicazione attraverso la quale il tecnico francese sta mostrando una spocchia ed una presunzione davvero fuori dal comune possiamo dire infatti in sala stampa vediamo sempre un Rudy Garcia spigoloso un Garcia che non accetta domande critiche che addirittura ritiene offensivo il fatto che gli si faccia presente che sette punti dalla vetta siano un'enormità se si considera quello che è stato il calendario finora un calendario attraverso il quale si poteva e si doveva fare molto di più e lui ritiene offensivo che gli si faccia presente il distacco dalla prima posizione in classifica ma qualcuno prima o poi doveva pur pensarci a fargli presente che questa squadra ha sul petto un tricolore da onorare cosa alla quale lui non ha mai fatto riferimento l'unica cosa che ha detto in riferimento al passato è quella di non conoscerlo e davvero questa questa irriconoscenza nei confronti di quello che è stato un vero e proprio pezzo di storia è un qualcosa ai limiti dell'ispiegabile così come non può non essere sottolineata la mancanza di presa di responsabilità Garzia infatti dopo le prestazioni peggiori non si è mai preso una responsabilità che sia una scaricando sistematicamente tutte le colpe sui calciatori che più volte hanno salvato la sua posizione risolvendo delle partite nelle quali le prestazioni erano stati erano stati a dir poco insufficienti con delle vere e proprie prodezze perché ricordiamo che se con il Milan la sconfitta è stata evitata è stato grazie a due vere e proprie prodezze da parte di Politano e Raspadori stessa cosa è accaduta a Genova così come a Berlino la vittoria è arrivata grazie alla giocata ad altissima scuola con cui Kvaraschelia ha fornito l'assist a Raspadori e questa giocata ha di fatto permesso di ottenere la vittoria in una partita di nulla cosmica e nella quale nell'arco dei 90 minuti non era stato fatto neanche un tiro verso la porta avversaria purtroppo ripeto questa era la stagione nella quale dover dare continuità a quanto di magnifico costruito da Luciano Spalletti quanto costruito da Luciano Spalletti costituiva un patrimonio da custodire e portare avanti nel tempo in modo da dar vita ad un ciclo duraturo ed invece questa qui rischia di essere di fatto una stagione gettata alle ortiche così come rischia di essere gettata alle ortiche la possibilità di costruire un ciclo vincente perché adesso è chiaro che nella prossima stagione con ogni probabilità bisognerà ricostruire da zero bisognerà ricostruire dalle macerie che lascerà l'attuale disastrosa gestione tecnica perché ecco io ritengo che bisognerà procedere all'esonero ma penso che infine De Laurentiis deciderà di proseguire con Garcia fino a fine stagione per quanto sarebbe una decisione assolutamente non condivisibile ma De Laurentiis è chiamato a porre rimedio alla serie di errori commessi in estate che hanno fatto sì che si generasse la situazione attuale De Laurentiis purtroppo ha voluto fare tutto da solo nel post scudetto ha pensato di poter fare facilmente a meno di figure come Spalletti e Giuntoli che erano state determinanti per l'ottenimento dello storico successo mi riferisco ovviamente al terzo scudetto pensava che bastasse prendere un allenatore che attuasse il 4-3-3 per generare la continuità tattica ma è chiaro che la continuità tattica più che nell'attuazione dello stesso modulo sta nell'attuazione di quelli che sono i medesimi principi e di quelle che sono le medesime idee dunque detto questo è al momento tutto noi ci ritroviamo per i prossimi aggiornamenti qui su Campania nel Pallone un ringraziamento a tutti coloro che hanno seguito questa diretta e un augurio di una buona serata